Qual è la vera coppia gol del Bari? Se lo chiedono i tifosi, se lo chiede probabilmente anche Michele Mignani. Se il mantra dell'allenatore è stato spesso, non è difficile decidere chi mandare in campo, ma capire chi tenere fuori di domenica in domenica, è altrettanto vero che i numeri confermano, come nel reparto avanzato della prima della classe, non ci siano dei veri e propri titolarissimi. I dati sulle scelte operate da Mignani nelle prime 13 giornate di campionato, con la squadra prima a più 4 sulle inseguitrici nel gruppo C di Serie C, stanno lì a supportare la tesi. Sin qui sono 5 le coppie alternate dall'allenatore nell'area di rigore avversaria, 2 le opzioni più suffragate, Simeri-Antenucci e Cheddira-Antenucci. Se la prima scelta rappresenta un ritorno all'usato sicuro, nel nome dei 30 gol prodotti in due nella regular season 2019-20, prima dell'addio forzato della scorsa annata, quando Simeri passò a gennaio all'Ascoli. La seconda incarna un mix tra gioventù, identificata nei 23 anni di Cheddira, ed esperienza che coincide con i 37 di Antenucci. Sono state alternate quattro volte a testa, con un rendimento che parla a favore dell'accoppiata Cheddira-Antenucci. Assegno quattro volte in due quando sono stati in campo nello stesso momento. Simeri-Antenucci hanno invece fatto male nella stessa gara al Catanzaro, restando a secco e non incantando contro Potenza, Paganese e Juve-Stabia. Meno incisive sono state le coppie Marras-Cheddira, proposta due volte dal primo da Mignani, e Marras-Simeri, impiegata contro il Monopoli. Tre apparizioni complessive, zero gol in tandem, fatturato leggermente migliore per Simeri e Cheddira, titolari contro Messina e Turris con il rendimento di una rete in due, quella dell'ex Parma contro i Campani. Nella cooperativa del gol bianco-rossa, 10 marcatori, 21 reti, con Simeri, top scorer a quota 4, mancano Sinqui, Marras e Citro, quest'ultimo tornato in campo contro il Foggia dopo otto mesi di assenza per il K.O. al ginocchio. Discorso a parte, merita Daniele Paponi, Sinqui ha giocato 58 minuti in campionato senza mai partire titolare e ha segnato un gol, quello che il 29 settembre ha chiuso i giochi a Messina. Paradossalmente la migliore media reti partite giocate è proprio la sua, anche se il minutaggio è assai ridotto per risultare attendibile. Avrà spazio, magari già a partire dalla prossima curva, quando al San Nicola, domenica, start alle 17.30 e attesa la Vibonese, Fanalino di coda.